Sempre più gente scala in palestra indoor, sempre più bisogno c'era di un prodotto dedicato appunto alle persone che arrampicano nelle palestre indoor. Ed ecco che quest'anno ci siamo inventati come la sportiva di dedicare appunto un prodotto la scalata indoor è un prodotto per praticanti diciamo che cominciano ad arrampicare o di medio livello non è ancora un prodotto studiato per la scalata diciamo di altissimo livello però è un prodotto che ha delle chicche e lo rendono veramente importante, specifico e assolutamente funzionale per quello che è stato fatto, per la scalata indoor. Siamo usciti quest'anno con tre modelli, Oxygen, Hydrogen e Nitrogen la cui caratteristica essenziale è quella dell'igiene, sono infatti scarpe lavabili molto facilmente solitamente le scarpe quando vengono utilizzate nelle palestre artificiali si sporcano molto si impregnano di polvere perché c'è il magnesio e anche di sudore e quindi diventano generalmente delle scarpe brutte da vedere e anche poco igieniche da portare. Allora abbiamo presentato proprio questo prodotto indistruttibile, indistruttibile anche dopo molti lavaggi è molto facile da lavare, si asciuga molto in fretta è una scarpa in cui abbiamo puntato alla comodità dell'utilizzo piuttosto che non al suo aspetto prestazionale per delle performance di altissima qualità è quindi una scarpa comoda che può essere vestita calzata abbastanza grande in cui il piede può stare disteso proprio perché quando si arrampica in palestra si tende a tenere le calzature ai piedi per tutto il tempo che si sta in palestra e non la si sfila ogni volta la scarpa fra una via e l'altra abbiamo optato per questa soluzione che ci sembrava la più intelligente e la più sensata accanto ai due modelli che sono stati studiati per l'utilizzo cosiddetto da privati siamo usciti anche con una scarpa da noleggio in cui si può ben vedere la taglia sul retro sopra il tallone per quando è messa in stock negli scaffali ed è quindi molto facile individuarne la taglia la scarpa, appunto il modello rental per le palestre è anche dotato di un puntalino in gomma che scende sotto il bordo per cui quando il bordo si consuma completamente comincia a apparire un colore diverso che è il giallo vuol dire che è il momento di risuolarle la risuolatura è un aspetto sempre più importante della scarpa da arrampicata è per questo che abbiamo diviso la suola in due parti e si può risuolare solo nella parte front questo la rende più veloce, più facile e anche più economica da risuolare per tutte queste caratteristiche, il comfort, la lunga durabilità e l'igiene di questa scarpa sicuramente è proprio per queste caratteristiche che sarà un super prodotto per la scalata indoor e sono abbastanza convinto che abbia un felice futuro a tutti auguro buona scalata a partire dalle sale di scalata, dall'indoor ricordatevi che dopo quello vi può portare anche sulla roccia vera e la scalata ha qualcosa di più lì grazie mille 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 Grazie.